Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato agli snapshot di Minecraft 1.20 Snapshot della settimana è il 23V14A Noi abbiamo già fatto un video sull'ultimo snapshot che era il 15 d'aprile Sia nel giorno del 15 d'aprile sabato sia ieri dove ho fatto l'analisi seria Delle funzioni, delle aggiunte che inserisce lo snapshot e che potrebbero davvero arrivare nel gioco Ma oggi siamo con un vero snapshot appunto il 23V14A Snapshot di passaggio oserei dire perché va a fixare delle cose, fa delle aggiunte tecniche e implementa alcune modifiche sui vari blocchi Che adesso ovviamente vi andrò ad elencare e spiegare come sempre Ma prima ragazzi supportate con un like mi raccomando e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessuna news su Minecraft Se vi iscrivete attivate anche la campanella perché altrimenti non vi arrivano lo stesso le notifiche e siamo appunto a capo Detto questo partiamo subito e vi ricordo che teoricamente la versione non è finita del tutto Dato che mancano ancora forse un paio di cose all'appello Quindi aspettiamoci magari in futuro un piccolo snapshot che faccia delle mini aggiunte E quindi potrebbe non essere ancora tutto 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 fatto La prima novità che andiamo a vedere è che in realtà è una modifica riguarda lo Skull Shaker Anzi i blocchi Skull Shaker in generale in questa versione sono stati un po' ritoccati Lo Skull Shaker come ben sapete è quel blocco che permette la nascita del Warden Ed è quindi un blocco molto importante Ci sono due novità che lo riguardano La prima è che come avete visto sta nel tab della Redson in creativa Quindi ora l'hanno giunto anche qui La seconda è che proprio come lo Skull Sensor può essere waterloggato Quando è waterloggato non ne metterà più suoni Anche se lo attiviamo, anche se lo calpestiamo Come vedete l'onda sonora esce Dovrebbe anche darmi l'effetto di Darkness Se insistiamo a rompergli le scatole Però non fa più suoni perché l'acqua va a silenziare questi blocchi Il che li rende ancora più pericolosi ma anche meno scomodi se vogliamo Ah giustamente considerate che vi sto facendo vedere un esempio con uno Shaker che ho messo in creativa Quando li piazziamo noi non hanno lo stesso effetto di quelli naturali Sono quelli naturali solamente che evocano il Warden Invece ora possiamo prendere il sensore Lo Skull Sensor e anche il Calibrated Skull Sensor Ci prendiamo della Redstone Ci prendiamo una lampada Dove sta la lampada? Eccola qui Ci prendiamo anche un leggio Ci prendiamo un comparatore E ci prendiamo dei blocchi random Ad esempio la Cobblestone E anche un libro effettivamente che servirà per fare tutti i test Partiamo da una cosa che ormai sta diventando evidente Mojang mi spia Quindi un saluto a tutti gli sviluppatori Nel caso io vi ricordo l'offerta è valida Se volete assumermi come consulente sono qui Ma apparentemente nella mia ultima survival Ho fatto un circuito che aveva un problema Il problema era questo Ho messo il mio Calibrated Skull Sensor E ho messo il leggio con il comparatore Che puntava al sensore Come vi ho spiegato nell'ultimo video Nel caso andate a recuperarlo Se tu hai un libro con più pagine Facciamo una roba tipo di questo tipo E lo metti qui A seconda di come giri la pagina Il comparatore dà un segnale diverso E va a selezionare solamente una frequenza di vibrazioni Che ascolterà il sensore Quindi come vedete ora se salto e faccio cose Mi sente Perché sono rimasto alla pagina 1 Ma se ora faccio così non mi sente più Perfetto Perché va a percepire altre vibrazioni Ma dove stava il problema? Questo blocco era waterloggato E l'acqua faceva sì di portare via il comparatore Ho trovato poi un'altra soluzione Che farò vedere nel video di domani Ma quello che non si poteva fare era questo Quindi se io avevo il sensore qui E un blocco di mezzo che passava il segnale Il segnale non passava correttamente Da questo snapshot Anche se hai un blocco di mezzo Puoi passare il segnale correttamente Che è proprio il problema che avevamo trovato Nell'ultimo video della survival Ora è stato ufficialmente risolto Infatti come vedete Il sensore ancora adesso non mi percepisce Perché sta ascoltando altre frequenze Per i prossimi cambiamenti Andiamo invece più nel tecnico Non sono sicuro di aver capito perfettamente Anche perché non ricordo se alcune cose Le facevano già o meno Ma lo sky sensor ora alimenta Il blocco sotto di sé Con la redstone In maniera forte C'è scritto così sul changelog Non chiedetevi il motivo Fatto sta che Come vedete Trapassa anche il blocco E manda il segnale sotto Quindi tu puoi attivare ad esempio Una lampada in questo modo Cosa che chiaramente Gioppo devi fare così Ma ora il blocco viene attivato Con la redstone E quindi la trasmette altrove Puoi anche fare ad esempio Un circuito che esce da qui Inoltre E queste due cose valgono Per entrambi gli sky sensor Quindi normale e calibrato Il segnale di output Messo e emesso anzi Dallo sky sensor È stato modificato Per essere più preciso Nel calcolo delle distanze Ora anche qui Va un po' interpretato Ma se noi andiamo a impostare Uno sky sensor Lo mettiamo qui Li facciamo tutta una bella fila Di redstone Noteremo che Se io vado a fare casino In questo punto Il segnale arriva tipo Fino in fondo Ma se io li vado a fare casino Qui in mezzo Il segnale è molto più debole Si ferma qui Anche se sto facendo Lo stesso tipo di movimento Se faccio casino da qui Addirittura non mi sente Perché siamo troppo lontani Arriviamo al limite Eccolo Come vedete Il segnale che esce È davvero molto Tenue E sarò sincero Potrei essermi perso qualcosa A me pare che questa cosa Prima non la faceva Quindi o hanno ritoccato Questo sistema Per renderlo più accurato Nel calcolo Della distanza Della fonte Della vibrazione O hanno aggiunto Questo sistema Non mi è chiaro Perché non mi ricordo Se c'era già questa cosa E non ho mai approfondito Così tanto Di Sky Sensor Però vi riporto la notizia E nel caso Io vi ho fatto vedere L'intero sistema Così di essere Il più chiaro possibile Tornando invece Al nostro Calibrated Sky Sensor Che è il blocco nuovo Torniamo giù Ora Questo blocco Può essere attivato Con Un minor delay Guardate con quale velocità Si attiva Prima Poteva essere attivato Dopo un cooldown Dalla vibrazione Che percepiva Di due secondi Ora è stato ridotto A un solo secondo Quindi ogni secondo Può percepire Una diversa vibrazione Cosa molto interessante Inoltre Ora sta venendo Attivato dagli animali Potreste notare Che alcune vibrazioni Gli arrivano da molto Più lontano del solito Perché se prima Il suo raggio d'azione Era di otto blocchi Adesso può percepire Vibrazioni Fino a sedici blocchi Di distanza Quindi è molto più potente E bisogna esserci Molto più attenti Soprattutto Quando fai dei circuiti All'interno di spazi ridotti Come quello che ho fatto Nella mia base Nell'ultimo episodio E come sempre Bug fix E anche novità tecniche Nelle novità tecniche Faccio notare Velocemente Una cosa Che ovviamente Noi utenti Noi utenti normali Non utilizzeremo Ma a livello di server Ad esempio È molto utile Infatti questa notizia L'ho subito Inoltrata Al mio team Di developer Che lavora Al server Dei sub È stato messo È stato messo Un nuovo supporto Al quick play Ovvero Dei comandi Che permettano Di prendere un giocatore E farlo Loggare in automatico In un altro mondo Quindi io sono In un mondo Che ne so Multiplayer Sono anche in un mondo In single player Ad esempio E posso tramite comandi Dire che Il giocatore Deve Loggare A questo IP Multiplayer A questa determinata porta In questa determinata game mode Questo sistema Permetterà Quindi tramite Dei semplici comandi Di far switchare I giocatori Da un mondo all'altro Soprattutto nei server Con più facilità Non so ancora Come potrebbe essere implementato Ma consiglio A tutti quelli Che lavorano Con il multiplayer Ad esempio Ma non solo Che lavorano Con progetti Multi mappa Di darci un'occhiata Perché potrebbe essere Una cosa davvero Molto interessante E come sempre Anche questo snapshot Fanno vedere Quelli di Mojang Che stanno strizzando Molto l'occhio Alla community Dei creator Quindi creatori di mappe Plugin Gestori di server Stanno facendo Tutta una serie Di novità Ultimamente Che rendono La vita di tutti Questi creatori Di contenuti Davvero più semplice Quindi GG Mojang Che sta lavorando Molto bene Anche in quest'ambito E per concludere Ragazzi Nel changelog Non era neanche indicato Ma penso sia una novità Di questo snapshot Perché non l'avevo Ancora vista C'è una nuova Immagine panoramica Nel menu Immagine per la 1.20 Con un bellissimo tramonto Su questa foresta Di ciliegi Nuovo caricamento Per la nuova versione Devo dire Molto carino E con questo ragazzi È tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Ricordatevi di supportare Con un like Ci vediamo stasera Alle 20.30 In live Con una speciale sfida Contro i sub Del mio server A nascondino Avrò bisogno anche L'aiuto della chat Perché sarete i miei occhi Dobbiamo Trovarli Cacciarli tutti È un po' Nascondino Un po' Anamenante Se vogliamo Quindi passate pure E poi domani Ovviamente con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti